Spesso si parla di test rapido, ma test rapido è un aggettivo. Quale test rapido? Perché c'è un test rapido da tampone e quelli sono quelli che stanno utilizzando ormai anche in alcune regioni del nord, hanno utilizzato negli Stati Uniti, in Cina. Sono test che permettono di accelerare la procedura che invece di amplificare il virus lo vanno a identificare in modo rapido e comunque vanno a identificare il virus, quindi ci danno la certezza che questo paziente sia o malato o portatore. Questi sono test rapidi per ricercare il virus. Poi ci sono i cosiddetti test rapidi che noi stiamo ancora valutando per il loro significato clinico e per le loro capacità, perché quant'è che un test è buono? Quando ci individua tutti i pazienti positivi. Se un test non ci individua i positivi, non va bene per fare uno screening. Anzi, noi preferiamo che un test ci dia anche dei positivi in più, fra le due, piuttosto che darci dei negativi falsi, perché è il negativo falso che ci preoccupa molto. Allora, esistono, stanno uscendo sul commercio dei cosiddetti dosaggi sierologici, cioè da sangue intero centrifugato, quindi con prelievo di sangue dalla vena, che ci dicono la quantità di anticorpi che l'individuo sta sviluppando, che questo corrisponde al cosiddetto processo di acquisizione dell'immunocompetenza. Quindi noi vediamo la comparsa prima dell'anticorpo IgM e poi dell'anticorpo IgG. Questo ci dice due cose. Se l'individuo sta producendo un'immunità, quale sarà e qual è la circolazione del virus all'interno di una comunità? Potremmo farla negli RSA, potremmo farlo in alcuni ospedali dove c'è stata una maggiore incidenza. Potremmo farlo anche a livello di un condominio dove abbiamo numerosi casi. Questo è molto importante perché potremmo, sulla base di questo studio che necessiterà, secondo me, di parecchi mesi, vedere per l'autunno quante persone sono già immunizzate, perché anche quando ci sarà un vaccino noi dovremmo utilizzarlo nelle persone che non sono ancora immunizzate.